Il complemento di termine. In analisi logica i complementi assumono il nome che hanno e contengono nel loro stesso nome anche in qualche maniera il loro senso, la loro definizione. Infatti il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa, quindi gli esseri animati o inanimati verso cui si dirige o meglio ancora su cui termina l'azione espressa dal verbo, dal predicato. Su cui termina, l'azione su cui termina. Le parole stesse ci rimandano al complemento di termine, cioè il complemento di termine è proprio quell'essere animato o inanimato su cui termina si compie quindi l'azione espressa dal predicato. Ed è abbastanza chiaro se vediamo degli esempi. La fedeltà alla parola data è importantissima. Mi sta facendo capire a cosa do la fedeltà. Allora se io dico dare fedeltà alla parola è importantissimo. L'azione del dare fedeltà termina sulla parola, cioè si compie sulla parola stessa. Significa che è sulla parola che si completa il significato di dare fedeltà. Quindi il complemento di termine è un complemento che utilizziamo tantissimo nel nostro comunicare perché spessissimo abbiamo la necessità di chiudere un'attività che compiamo specificando su cosa la chiudiamo. Vediamo altri esempi. Pablo ha dedicato il suo primo romanzo a Carla. Sono contrario alla pena di morte. In entrambi i casi ci sono delle azioni che vengono compiute. Nel primo caso è Pablo che dedica. Che cosa dedica? Il suo primo romanzo, complemento oggetto, a chi lo dedica? Cioè l'azione di dedicare su chi ha termine? Chiaramente su Carla. Sono contrario a che cosa? Alla pena di morte. Il mio essere contrario termina sulla pena di morte. E allora comprendiamo anche le domande. Il complemento di termine risponde alla domanda a chi? A che cosa? Quando diciamo a chi ci riferiamo ad un essere animato. Quando diciamo a che cosa ci riferiamo chiaramente ad un essere inanimato. Quindi ad una cosa.